con lo switch della cam no no che dopo fai pisciare tutti quanti addosso che dicono hai una 3080 Ti? Non puoi no no quale 3080 Ti? no no tocca la scatola no già mi si rigozza la scatola scommetto sembra tutto stabile io allora direi che passano passati quanti secondi non lo vedo neanche qua comunque buonasera dal demiurgolo del pensamento da grande Paolo Marocco proprio lui quello di Blackthorin eccoci eccoci qua e poi abbiamo la voce fuori campo che la sentite ma non la vedete esatto la mitica voce fuori campo proprio lui quello di Blackthorin e oggi parliamo di argomento spinoso emulazione in modo etico nel retro gaming ma non solo nel retro gaming sarà possibile fare questa cosa chi lo sa non lo so non lo so penso proprio di sì comunque nella live si vede un piccolo tab se lo togli eh quella lì sarebbe la chat si vede un restream.io eh quella la chat di tutti i tre siti dove la live è trasmessa che dovrebbe confluire lì ah ok ok abbassa abbassa ma mettila fuori schermo vedo che la muovi eh la metti in fondo più bassa dai sì 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 buttala giù buttala via quella roba brutta eh però scrivono così eh senti da fare lascio lì vediamo se sì 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 lascia lì allora avete provato a vedere si vede su YouTube sì su YouTube anche io sto guardando se è tutto a posto sì devo confermare che io sono io sì sì sono proprio io incredibile anche il cellulare mi chiede questa cosa la qualità è decente è decente sì 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 va bene allora su Twitch mi è arrivato che sta andando quindi è posto dai possiamo andare ci siamo ci siamo allora dopo la prima volta che la facciamo dopo la prossima volta aggiusterò meglio se ne facciamo beh anche anche una prima live sul tuo canale in tre tra l'altro eh bisogna anche dire questo ah sì bisogna anche ma vogliamo parlare di questo bell'uomo con le cuffie io lo vedo adesso cioè attenzione ragazzi c'è c'è un bell'uomo che parla eh io dico eh non l'avevo ancora visto perché non riusciamo a vederci in questo momento quindi però tu lo immagini diciamo così lo immagini lo immagini ci sta oh ragazzoni dai si parte allora visto che siamo partiti facciamo una cosa molto simpatica arriviamo proprio facciamo la prima domanda di quelle belle eccolo qua che gli cade la cavi è successo una roba ho agganciato con una ciabatta la telecamera ha agganciato incredibile facciamo facciamo la domandina quella proprio da bambini allora l'emulatore più amato è l'emulatore più odiato ah ah secondo voi secondo voi vai prima te Paolo se no possiamo fare facciamo una domanda a testa prima uno ho capito vuoi che rispondo prima io o prima te dopo facciamo il contrario come vuoi te puoi andare tu tranquillamente tanto io sono pro allora l'emulatore più amato sì allora facciamo così è l'emulatore più amato cioè quello che avete scoperto da piccoli che avete amato era più facile di utilizzo il primo gioco che avete utilizzato è quello invece che vi ha fatto bestemmiare di più quello che avete detto cazzo lo voglio lo voglio non andava mai allora il mio primo emulatore che ho usato e che mi sono trovato molto bene è stato il Visual Boy Advance ok ci sta come no notevole notevole sì e poi vabbè prima ROM giocata su quell'emulatore Varioland 3 perché all'epoca perché all'epoca non sapevo ancora bene cioè usavo Visual Boy Advance anche per il Game Boy Color anche se non è proprio la cosa perfetta adesso ci sono emulatori più precisi perché è più specifico per il Game Boy Advance però lo usavo per Varioland 3 solo per il Game Boy Color e andava comunque bene beh sì ci sta ci sta grande emulatore grande emulatore è il più odiato il più odiato quello del Nintendo 64 il Project 64 l'ho odiato a moro tutti hanno avuto quell'emulatore l'orca miseria ci ha fatto penare quell'emulatore che poi io mi dava dall'imprecisione l'oro ho provato tutti gli altri in Muffin 64 tutti quelli più sconosciuti in 1960 è stato un delirio io mi ricordo che è un delirio che poi voglio comunque ricordare a tutti che siamo due generazioni completamente differenti abbiamo una generazione un po' più giovane e abbiamo una generazione un po' più giovinastra no? tra virgolette quindi giovinastra è molto bello sentire da dove uno parte da dove uno arriva pensa tu qua siamo arrivati dal Visual Boy siamo arrivati Game Boy Advance abbiamo fatto il Muff Nintendo 64 come emulazione sti gran cazzi ha rotto le palle a tutti le ROM che non andavano mai poi io lo cercavo di emulare su un Cosme portato Toshiba con 512 MB di RAM una GeForce 6600 però andava però madonna le impostazioni era un casino baluardo dell'emulazione però andava Pokémon Stadium 2 andava e non laggava ma ci ho messo mesi a configurare e beh però andava e il Mauro dice guardalo che faccetta che ha no beh allora il mio più amato in assoluto è il Mame comunque ok beh tu nasci da lì perché hai portato Guida su Guida no nel senso il primo vero emulatore io l'ho avuto a cavallo tra il 99 e il 2000 ed era il Neo Rage X oh mi hai letto io stavo per dirti allora io ho due nomi Neo Rage X e Zinc eh lo Zinc lo Zinc lo ho scoperto dopo e no il primo il primo è stato Neo Rage X e ti racconto anche come è nata questa cosa per puro caso vado in un in un negozio ricordiamo sempre 1999 barra 2000 e quindi la testica è importante anche per il discorso di quello che si poteva far girare all'epoca senza avere chissà quali computer praticamente entro in questo negozio e vedo che nel in uno di questi computer cacchio girava Metal Slug Super Sidekicks tutte queste cose qua io oddio sogno di una vita che sia vera oddio com'è possibile che diavoleria è mai questa allora mi spiega il ragazzo che poi mi costruì il computer che appunto c'era questo emulatore bla 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 il Mame già esisteva comunque però io non lo conoscevo ancora è un aneddoto anche sul Mame e quindi da lì nasce il discorso dell'emulazione quindi ripeto il NeoRage X è storico perché fu il primo emulatore penso Arcade Perfect potremmo definirlo così con il NeoGeo cioè tutto quello che c'era in sala gioca girava perfetto effettivamente se non mi sbaglio all'epoca scusa ti interrompo se non mi sbaglio all'epoca il NeoRage faceva la bellezza di 131 rom ufficiali dell'SNK poi si sono allungate sono arrivati a 151 però ufficialmente all'epoca 131 non erano poche considerando i King of Fighters e quant'altro anche perché tu potevi giocare fondamentalmente a tutto quello che avevi visto fino a quel momento e anche con quello che c'era grosso modo sul mercato in quel momento perché se non sbaglio era già emulabile King of Fighters 99 mi pare sì uno degli ultimi era che però usava anche il controller che non c'era nei controlli di adesso era il Microsoft iWinder se non mi sbaglio assolutamente usava il controller era fantastico cioè è stato fantastico finché ovviamente non si è evoluta la scena dell'emulazione arriva il MAME tra l'altro piccolo aneddoto sul MAME quando io scopro il MAME o MAME io non ho ancora capito come si dice ogni tanto dico sì io lo chiamo MAME però dicono tutti cioè l'inglese sarebbe MAME sì dicono MAME dicono tutti MAME però per me rimane MAME anche per me anche per me perfetto quindi se lo dico in un modo dico in un altro va bene tecnicamente è italiano quindi dovremmo dire MAME forse ma che ci frega in fondo e praticamente quando scopro dell'emulatore su un sito fantastico ragazzi che chi è vecchio come me e Jacques conoscerà sicuramente grazie gentile per il vecchio beh siamo due vecchi in fondo che era tutto gratis tutto gratis l'ho conosciuto ma era era azzurro no mi ricordo verde era verde tutto gratis punto it ragazzi mi ha svoltato quel quel sito mi fa scoprire il MAME e io da super ignorante dell'epoca mi scarico l'emulatore e vado a vedere l'elenco dei giochi e ho detto cacchio ci sono tutti questi giochi in realtà no ovviamente perché i giochi andavano scaricati avanti io la prima cosa che andai a cercare sul MAME fu Mortal Kombat 2 perché io sono strappo di Mortal Kombat 2 ovviamente non partiva poi mi sono fatto la mia cultura sugli emulatori ho poi capito appunto il discorso dei giochi dei rom set eccetera eccetera altri emulatori che fondamentalmente fanno girare qualunque cosa o almeno nella maggior parte dei casi e quindi cacchio siamo nel 2021 e comunque non sono ancora riusciti a far girare bene il Nintendo 64 e chi lo sa se ci riusciranno mai hanno migliorato molto il Sega Saturn non è ancora preciso perfetto sti cazzi io lo gioco lo stesso e sarà meglio su Android che sul PC guarda caso chissà per cà e quindi ti dico anche in quel caso il Nintendo 64 più che altro è un è un dispiacere perché giustamente sul Nintendo 64 almeno per quanto mi riguarda ci sono una serie di giochi che io adoro e vorrei vedere emulati bene e teoricamente sono anche emulati bene forse facevano proprio schifino i giochi originali tra cui in assoluto Super Robo Spirits quello dei quello dei robottoni che ticchiano preferisco preferisco il Gundam per SNES è molto bello mi diverto per carità di Dio io ti dico tu conta nel 96 97 mi pare il gioco dovrebbe essere più o meno una data del genere cioè tu immagina un ragazzino di 17 anni cresciuto a pane Daitan 3 e i robottoni vede un gioco dove ci sono i robottoni giganti che si picchiano senza ritegno il gioco della vita effettivamente siamo come Tech Romance però più o meno siamo lì sì Tech Romance è fatto un pochettino a proposito dello zinc piccole chicche e quindi ci condividiamo insomma il Nintendo 64 come primo Neo Rage X e poi il MAME per me rimane forse non dico che è quello da cui è nato tutto ma forse ci ha dato una botta non da poco insomma tutto quello che è il discorso dell'emulazione e lo spirito dell'emulazione ma non voglio togliere le domande a Jacques voce fuoricampo scusa non volevo dire chi è questo ti hai non c'è problema ti hai sarà un fratello a questo sarà un fratello no però sei arrivato un discorso cioè siete arrivati tutti e due un discorso abbastanza interessante perché siete puntati sul MAME no e la domanda che io ho già trovato la mia risposta però sono curioso di sapere la vostra ma secondo voi ma perché il MAME è stato il pioniere tra virgolette dell'emulazione però è rimasto indietro rispetto a tutto quello che è uscito adesso cioè se pensate a quello che trovate come singoli volete PSP volete Saturn PS1 o quant'altro è tutto facilmente emulabile sul MAME ci sono ancora grossi problemi perché? secondo voi vado allora io non la vera risposta forse non ce l'ho ho delle ho una mia idea ho delle ipotesi va anche detto a onore del vero che per anni hanno combattuto Final Bar e MAME no grosso modo per quello che riguardava l'emulazione però Final Bar ha sempre fatto 2D e poi si è unito a Kyler e si è sviluppato in GCPO ed è riuscito ad andare online quindi Final Bar è diventato un punto cruciale per il gioco online ma in 2D sì 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 no intendo che a livello di emulazione io parlo della tra virgolette battaglia fra pirati ah ok in realtà non è vero affronteremo affronteremo dopo questo discorso no no in realtà è una battuta battaglia fra pirati nel senso che da una parte c'era il MAME dall'altra c'era il Final Bar che era in teoria l'antagonista nei 2D e fondamentalmente per Capcom e Neo Geo ora personalmente ti dico io ho sempre preferito il MAME io ho letto varie varie interviste anche al creatore del MAME sul perché è nato il MAME sul come è nato ovviamente lui non fa più parte del team da una vita ci sono un sacco di nuovi personaggi ci sono un sacco di damper e io dico sempre Dio benedica i damper perché ci hanno permesso di continuare a giocare e tutta un'altra serie di robe il MAME ha sicuramente delle limitazioni io mi ricordo di aver letto mille e mille anni fa che la problematica del MAME nel 3D almeno nella fattispecie Tekken che voglio dire insieme a Tekromancer insieme ad altri giochi sullo Zinc sono emulati sono quadrati cioè sono perfetti è vero che lo Zinc fa solo 3D fa solo quello e lo fa benissimo mi pare che il MAME avesse dei problemi almeno come programma come emulatore per via forse delle direct 3D mi ricordo di aver letto qualcosa del genere e che comunque faceva fatica forse anche per non so il core suo che non ce la fa a fare determinate cose se giocate a Tekken 3 ancora adesso che Tekken 3 lo potete giocare anche sul Tostapane sul MAME ha dei problemi sull'audio ora se avete un PC piuttosto potente non vi accorgete di eventuali problematiche se avete qualcosina di un po' vecchiotto ci sono dei problemi di sync audio cose di questo tipo e ripeto Tekken 3 è stato decriptato in tutte le forme ora io credo che appunto le problematiche siano dovute proprio alla forse al codice sorgente al suo core vai a sapere in più c'è da dire che hanno tentato di emulare anche tipo la Tommy's Wave la Naomi con tra virgolette scarso successo cose che sono state stra-emulate perfino a Raspberry cioè voglio dire che Raspberry è una cazzatina in confronto a una situazione Windows chiamiamola così eppure Naomi gira perfettamente la Tommy's Wave che Kenshiro sembrava un gioco impossibile da emulare l'hanno emulato probabilmente per tutta una serie di questioni dovute alla sua origine di programmazione forse non ce la fa a emulare cose di questo tipo forse è diventato vecchio magari non si è ancora accettato che il Mame purtroppo è diventato vecchio da questo punto di vista e non riesco a stare dietro mi sono dilungato tantissimo prego scusate no 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 sono d'accordo no no guarda che è una cosa assolutamente interessante ed è giusto anche che se ne parli anche perché ho notato che c'è molta adesso non me ne voglia male il pubblico però c'è molta anche ignoranza in questa parte qui perché comunque la gente non capisce cosa significa emulare una cosa è abbastanza difficile e poi faremo un discorso a parte dopo perché ho già in testa una cosetta una piccola domanda da fare io voglio sentire cosa pensa il nostro amico beh assolutamente è da aggiungere c'ho poco perché tante cose che le condivido e c'ho da aggiungere soltanto una cosina che però è una mia idea magari dovete correttemi perché magari io non so esattamente come funzionare l'architettura del Mame è che secondo me sono sistemi molto diversi gli giocchi arcade sono delle schede completamente diverse da l'altra e secondo me fa rientrare tutto in uno stesso diciamo programma dei giochi programmati in un modo così diverso è difficile avere un'ottimizzazione cioè io so che nelle versioni del Mame magari migliorano i giochi più moderni e poi magari quelli vecchi girano peggio che la versione prima io per esempio non so vai vai scusa io per esempio una volta infatti mi sono dimenticato prima ho detto Visual Boy Advance ma poco dopo avevo il Mame avevo praticamente Windows 98 avevo un DVD masterizzato da 4 giga era uno dei primi Windows 98 che il lettore di DVD avevo tutto il ROM il ROM di Mame e caricavo dalla cartella bravo come si dicevano a voi giocavo lì su Windows 98 però ci sono tanti giochi che andavano meglio lì che nelle versioni vecchie del Mame che in altre dopo successive che io ho provato quelli vecchi sto parlando poi magari in quelle successive girano meglio quelli nuovi quelli più recenti però noto delle cose cioè noto dei problemi forse dipende dal ROM set usato perché magari devi ma sì beh quello sicuramente perché attenzione ah questo è un piccolo appunto dalla versione mi pare la 2.30 siamo alla 2.36 che è uscita da poco mi pare dico mi pare perché non sono sicuro che sia la 2.30 hanno cambiato molto del ROM set soprattutto i giochi bidimensionali tipo hanno reintrodotto il Q sound nei giochi Capcom della CPS2 nel Neo Geo hanno di nuovo modificato delle robe è vero quello che tu hai detto di fatti mi pare che su Android la versione del Mame cos'è la 139U2 forse cioè proprio la versione vecchia che tra virgolette riesce a un po' a compensare questa cosa qua però effettivamente il ROM set il grosso del ROM set è cambiato mi pare dalla 2.30 in poi e dovrebbero aver migliorato di nuovo le cose comunque era questo che volevo aggiungere perché il resto l'hai detto tutto benissimo quindi quindi abbiamo scoperto i due monoliti insomma che ci sono stati nella vostra infanzia il Mame perché io non avevo console giocavo sul 98 al Mame è nato tutto da lì e comprendo io uguale anzi io a dire verità ho son partito col Neorage X oppure Neorage X come si vuole chiamare perché comunque SNK è sempre stata nel cuore quindi quando ti vedi un King of Fighters 94 97 un Samurai Shodown eri lì quella volta che dicevi cavolo ci posso giocare sul PC non mi costa 700.000 lire una cartuccia una console che poi ci arriveremo anche ai prezzi e poi sono partito anch'io col Mame e tutto quanto però il Mame vi dirò la verità per me è stato una fonte di gioia e una mezza delusione perché nel corso del tempo mi sono accorto che sia vero emulava giochi della Capcom vecchi come Cadillac e Dinosaur Ghost and Goblins o quant'altro mi emulava perfettamente però mi rendevo anche conto che certi giochi ho manco morto cioè non andavano e da lì ho scoperto lo Zinc che se ci pensi è vecchissimo non c'è codice sorgente è un emulatore chiuso io non lo conosco neanche questo Zinc eh vattelo riscoprire vedrai che comunque è un grandissimo emulatore molto semplice da usare però ti rendi conto che Tecno 1 2 3 girano Tecno Romance gira Rival School gira cioè girano giochi perfettamente tra l'altro ecco girano è stato è stato un emulatore che adesso cioè non viene più sviluppato da secoli però se tu te lo scarichi ti scarichi le ROM ci metti un controller pensando all'epoca oh lui prende e va il MAME queste cose no pensiamo una cosa ragioniamo su questo fatto qua quanto tempo ci ha impiegato il MAME a far girare Killer Instinct 1 eh eh vabbè ma Killer Instinct 1 aveva anche il CHD eh poi sono nati con Area 51 e quant'altro no che si sa però se ci pensi in controparte l'evoluzione dell'emulazione è nato il famoso Retroarch con i suoi core sì però attenzione a onor del vero va detto anche che prima dicevo appunto la gara Final Barn ma secondo me il MAME è sempre stato più intuitivo rispetto al Final Barn era molto più molto più intuitivo vero vero e è vero che ad esempio quando riuscirono ad emulare perché poi attenzione la eh è vero che Street Fighter 3 l'ha decriptato per primo mi pare il Final Barn se non ricordo male poi è stato trasportato sul MAME eh e sul MAME nascono poi se non ricordo male i nocidi le versioni in ocidi ma potrei dire una castroneria però non sono sicuro però va anche detto che il tanto criticato all'epoca MAME perché poi sappiamo che come esce un emulatore nuovo o un prodotto nuovo è comunque per forza più figo del precedente sì beh quello è ormai intanto però Super Sidekicks girava meglio sul MAME non avevi i glitch grafici schifosi nel campo che era tutto fatto male come sul Final Barn verissimo verissimo quindi sai poi per carità ognuno preferisce quello che con il quale si trova più comodo però il MAME secondo me cioè senza il MAME non avremmo probabilmente l'emulazione moderna comunque cioè attenzione quindi praticamente siamo arrivati che il MAME è stato praticamente il capostipite e qua nessuno lo toglie cioè è stato lui quello il primo che ha presentato una cosa concreta di emulare più di un gioco di una marca diversa più di un sistema e beh è stata una cosa effettivamente molto bella molto carina adesso io per dire adesso che c'è retroarce effettivamente è molto comodo su Windows però è comodo ma secondo me per quanto sia bello ormai bello pompato tra l'altro una delle ultime versioni addirittura ti autosetta i sei tasti di Street Fighter per dire io ad esempio da maniaco del controllo lo trovo ancora io ho bisogno di mettere tutte le mie robe infatti se parliamo di CRT di Mivar qualcuno chiude la live ma no ma io guarda che potessi ne comprerai di Mivar anzi quando è che mi spedisci il Mivar piccola parentesi ma questo è un altro discorso te ne ho trovato uno se vuoi poi ne parliamo in privato bravissimo bravissimo ce ne abbiamo un 28 ho trovato notevole 28 28 Mivar comunque niente attenzione il retro arc cosa gli vuoi dire è una di quelle robe incredibili che pensare che veramente gli emuli addirittura c'è l'emulatore mi pare della PS3 hanno incominciato a sviluppare c'è il core dell'RCPS3 se non so si si c'è il core confermo confermo stiamo parlando di una cazzatina no 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 poi è comodo perché gira su tutte anche sulla Wii U su PS3 tante cose siete arrivati a una buona domanda questa domanda è rivolta più che altro non a te Maulo ma è rivolta più a Giacomo cosa ne pensi dello sviluppo che c'è stato e della progressione degli emulatori da quando tu hai conosciuto il Visual Boy Advance fino adesso che si riesce a emulare la Switch cioè io parlo di un emulatore che si riesce a emulare perfettamente non vado a parlare di 360 di Xenia o quant'altro che un attimino un po' più già ho visto mi sono rimasto così a vedere l'Xbox il primo Xbox che è l'emulazione che progressi ha fatto ma siccome che hai vissuto tu questa progressione perché comunque ti sei avvicinato nei computer ma io però tre anni fa quattro anni fa che hai iniziato comunque a modificare console perché comunque anche tu hai una buonissima collezione ecco anzi ti sei fatto una collezione di tutto rispetto e tutto quanto ma vedere in questi pochi anni lo sviluppo pam che è arrivato oh guarda che se vuoi puoi giocare i giochi con la Nintendo Switch ma infatti è quella la cosa sorprendente che una volta già il mamme mi aveva sorpreso parecchie perché già pensare negli anni 90 poter emulare fino agli anni 90 di poter emulare tutto così bene già mi aveva sorpreso però dopo sì gli emulatori uscivano nel senso usciva il Game Boy nel 2004 dopo un annetto c'era l'emulatore già decente però non era così cioè non era non c'era la velocità che c'è adesso che praticamente quello Switch è praticamente già perfetto nonostante sia molto è vero che l'architettura è diversa per esempio faccio un esempio PS2 per esempio non sarà mai perfetta cioè la PS2 penso che sono delle più complicate da emulare ma perché i giochi c'è sempre il Nintendo 64 rimane sempre quella è vero Mario Kart secondo me la PS2 è ancora più complicata cioè perché i giochi hanno tutte le loro architetture diverse i loro programmi di codifica ed è un marasma la PS2 è un marasma c'è di tutto di più le peggio porcate programmate e dopo tutti questi anni c'è un sacco di problemi come il Saturn quelle macchine lì che sono complicate forse perché Saturn è una grandissima console forse perché le ultime console sembrano dei computer hanno l'architettura come il PC e loro sono più facili da emulare perché alla fine da computer a computer cambia poco bisogna saperlo interpretare invece il Saturn per dire con un computer sono due mondi diversi non so e secondo te Maolo invece siamo arrivati nell'emulazione nella tempistica giusta o siamo rimasti indietro? ma allora forse farò un discorso leggermente più alto ma che al quale tengo particolarmente perché si fa sempre confusione tra emulazione e pirateria no no questa dopo la voglio questa dopo perché c'è una domanda che si deve incastrare non rubarmi i tempi perché dopo ci mancherebbe e poi ti mando paypal dopo no io credo che allora negli ultimi anni soprattutto negli ultimi due pandemia mia parte che è un discorso relativo in questo caso almeno io credo che abbiamo la fortuna di vivere in un periodo storico a livello videoludico fantastico perché praticamente qualunque cosa ti passi per il cervello tu lo puoi giocare in maniera legale o in maniera meno legale secondo quelli che sono i criteri vari ed eventuali è che lo affrontiamo dopo questo discorso sì sì ma ti dico secondo me siamo nei tempi giusti nel senso voglio dire quando ho sentito parlare la prima volta dell'emulazione della 360 dell'Xbox 360 mi sembrava una chimera talmente assurda e invece nell'arco di un paio d'anni adesso tu lo puoi giocare e anche bene assolutamente certo ti serve un certo tot di potenza perché ovviamente la 360 è una macchina fondamentalmente giovane ancora da questo punto di vista e paradossalmente prima è stata nominata giustamente Giacomo ha nominato l'Xbox la prima Xbox io in questi giorni sto testando e sicuramente sto sbagliando qualcosa io sto testando l'emulatore dell'Xbox ho messo su Mortal Kombat Armageddon in game scatta nei menu no nelle presentazioni cosa che usi CBX o X-Men no uso tipo lo Xenia o X-Cemu forse qualcosa devi guardare aspetta e te lo dico perché ce l'ho sul desktop ta 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 dove è che lo va no Xenia Master è per un'altra cosa quella è un'altra cosa quella è un'altra cosa ancora un'altra cosa te lo dico subito perché io mi dimentico dei nomi in 3,2,1 ed è il X-Emu X-Emu quello è buono perché ti spiego come si senta vai tranquillo sì 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 ma ripeto sicuramente sto sbagliando qualcosa io e la ISO che uso l'ho dovuta costruire io quindi secondo me c'è sicuramente qualcosa però in ogni caso i video che avevo visto tipo di Panzer Dragoon Orta erano boh delle robe fenomenali la 360 che gira la Playstation e poi tra l'altro parentesi quell'emulatore che stai usando tu se è stato bene puoi fare Scaling 4K e tu lo puoi fare perché qualcuno ce la ti hai però andiamo avanti su questo ma beh cosa vuol dire non è che ho comprato la 3080 Ti allora adesso lo dobbiamo dire a tutti in due anni ci ho messo a fare sto computer e lo so lo so lo so no comunque ti dico anche la Playstation 3 allora i giochi bidimensionali su Playstation 3 girano praticamente tutti e senza grosse richieste hardware ad esempio per grosse richieste hardware intendo minchia se non ho la 3080 non mi gira niente no no assolutamente no la fai girare con una 1050 se vuoi attenzione però la Playstation 3 è complessa perché si è molto complessa gioco shader precaricare ci vuole un po' di si ma poi è una delle architetture più difficili però nonostante questo nonostante questo ma non parliamo di Playstation perché ultimamente mi sta sulle balle no beh comunque ti dico il famoso Dark Souls che è stato il primo titolo se non sbaglio a essere testato si 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 vero vero abbiamo già parlato come metro di paragone Dark Souls addirittura le texture in 4K cioè è un amore perché poi ci arriveremo alle domande che vi farò dopo però ti dico secondo me il periodo è quello fondamentalmente giusto anche per 360 e PS3 che sono fondamentalmente due sistemi tra virgolette diciamo così almeno di più la PS3 perché la 360 ha ancora la sua parziale retrocompatibilità con la Series X per esempio però sono due console morte ormai non ci sviluppano più giochi quindi quindi secondo te come tempismi cioè siamo giusti a livello di emulazione cioè siamo arrivati ma sì ma anche perché voglio dire adesso sfiga vuole che con la pandemia sono schizzati i prezzi delle schede video ma se fosse una situazione normale una tra i 1060 di listino mi pare che dovrebbe costare intorno ai 400 euro forse mi pare una cosina così una cosina del genere quindi quasi chiunque che bazzica nei computer se la potrebbe permettere quindi anche a livello è ovvio che serve una potenza un po' decente perché stiamo parlando di console che veramente sono giovani nel 2010 e non stiamo parlando di 50 anni fa ma di 11 anni fa usciva Black Ops quindi voglio dire non stiamo proprio parlando di cacatine tra virgoli no 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 fai solo che bene e quindi secondo me siamo fondamentalmente nel periodo nel periodo giusto poi vabbè il discorso della Switch è un discorso a parte ma farai la domanda giusta se ci sarà la seconda puntata parleremo del mitico Yuzu parleremo comunque piccola pausa piccola pausa a Marchetta come la chiamo io ragazzi sempre vi invito seguite Demiurgo seguitelo su Twitch su Youtube e quant'altro è anche il buon Paolo Marocco anche lui BT Computers perché è commerciante c'è un negozio di computer ragazzi quindi se vi seguono i videogiochi andate da lui rompete gli le balle chiedetevi che gioco va bene e lui vi consiglierà non andate da ad esempio ce l'avete la Playstation 5 ma che sa la Playstation 5 ma ce l'ha la Playstation 5 alla fine insomma ragazzi piccola piccola pausa a Marchetta però avete comunque due grande persone che comunque uno lo seguita una parte l'altro c'è un negozio un commerciante vi sa consigliare non vi dici stronzate non fa qua 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 insomma andiamo avanti quindi prossima domanda prossimo discorso perché ormai le domande diventano discorsi secondo secondo la vostra etica io ho già la mia etica ovviamente poi ve la dico se c'è nessun problema secondo la vostra etica cosa ne pensate tra gioco originale usato non quelli che lo mettono sullo scaffale lo conservano in cielo fa anche per le polvere non lo useranno mai ma tra comprare un gioco originale oppure cioè avere una libreria di giochi originali sullo scaffale e tutto quanto con la console nardo originale e la differenza tra un collezionista che ha il pc il suo emulatore e la sua collezione di rom aspettate ci saluta DJ Polystation che è un altro grande youtuber ci saluta ok lo seguo lo seguo buonasera DJ che ho fatto delle puntate anche con lui sui bootleg NS Megadrive è stata divertente buonasera allora era questa la domanda si la domanda era questa qui insomma comincio io allora io credo che per me il discorso da avere la collezione fisica col gioco e giocarci vale per tutto ciò che diciamo mi ha colpito nell'infanzia quindi fino all'epoca ps2 dopo dalle ps3 360 lì il disco diciamo che dal ds dal ds wii lì non mi interessa cioè io se puoi mettere puoi mettere tutto cioè console sia portatile sia puoi mettere tutto quello che ti è piaciuto quello che ti piace in generale da avere fisico se avessi soldi prenderai solo i giochi a cui sono più affezionato per esempio un devil may cry 1 per ps2 bellissimo versione non europea ti prego esatto sì 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 no no tipo cose del genere oppure della ps1 the legend of dragoon queste cose qua no cioè pochi giochi per console fisici proprio quelli originali e diciamo fino a quell'era lì perché dopo anche se sono usciti i bei giochi non avevo quel non è che mi prendesse così tanto perché l'ho già cresciuto ma quando sei diciamo fino ai 17 anni li sei molto preso e quindi vivi le cose sono diverse e quindi c'è una nostalgia forte c'è una nostalgia forte e quindi diciamo da lì fino a lì fino a quell'era lì i giochi migliori ci tengo per il resto io non ho niente di contrario a cos'è che dicevi l'altra opzione scusami o averli fisici oppure no tra secondo voi l'etica qual è qual è il contrasto tra avere una collezione fisica una console fisica dei giochi fisici non in cellofanati messi sulla mensola che è ok oppure uno che ha comunque l'emulatore ha la sua collezione in ROM cioè secondo voi qual è la differenza qual è l'etica secondo voi giusto sbagliato non va bene avere la ROM va bene facciamo questo discorso spinoso anche perché tante volte comunque sento tra virgolette fra vari utenti quando si parla comunque ci sono diatribe no ma la ROM è sbagliata no che schifo oppure no non è vero io ho la mia idea cioè che non la spongo adesso la respongo a fine discorso ero curioso di sentire tra virgolette cosa ne pensate voi originale ROM bello brutto fa schifo non fa schifo è giusto sbagliato e così via non parliamo di legalità non parliamo di se è giusto voglio sentire cosa ne pensate voi sì allora per quanto riguarda le ROM per esempio tutto quello che io ero troppo piccolo non potevo conoscere cioè di NES Master System cioè sono cose che sebbene io abbia recuperato le console abbia modificate se abbia l'Everdrive se abbia messo i cavi scartere CV buoni tutto quello che serve ho gli scheler le uso sui tubi cattolici le uso sulle quello che vuoi tutta la mia passione però non mi interessa avere il gioco fisico perché non ha fatto parte della mia era qualcosa di più vecchio di me e quindi è bello giocarlo lì e Mulan mi interessa la Roma non mi interessa praticamente scusa ti interrompo praticamente tu mi dici sì non conosco il gioco lo scarico lo gioco vedo com'è se poi mi prende bene se no faffanculo lo cestino però difficilmente diciamo che io di fisico di quello che mi interessa è ciò che riguarda Play 1 i Game Boy vari dalla Play 1 in poi Game Boy vari fino a PS2 cioè quinta e sesta generazione allora lì mi interessa il resto prima era troppo piccolo non potevo conoscere quindi mi accontento non mi dà feeling la coppia fisica praticamente non mi dà alcun tipo di perché non l'ho vissuto all'epoca quando io ero al massimo dell'interesse no e quindi e anche quello dopo ma ci sta ma ci sta assolutamente però però mi interessa avere le Rome e giocare a tutto perché mi piace giocare a tutto quello vecchio quello nuovo ma perché è Roma assolutamente giusto assolutamente giusto ok se Polistation risponde secondo me scaricare Roma è giusto la ROM nasce come concetto di preservazione non per vioteri aspetta un attimo ho letto anche io ok ci sta però questo è un discorso un attimino un po' più un po' più spinoso ci potremmo fare una puntata ci potremmo fare una puntata effettivamente ci potremmo fare una puntata è un buon slancio per chissà una prossima futura chi lo sa io invece Mauro cosa ne pensi tu come la vivi perché ti conosco tra film tanto ti dico quello che ho sempre detto quindi voglio dire non è che dico una cosa che adesso sono in diretta quindi devo fare il figo no 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 io scemo sono scemo rimango quindi voglio dire non è un problema no ma allora io sono un collezionista atipico da questo punto di vista sono stato un collezionista di magari giochi Mega Drive Super Nintendo o cose di questo tipo qua e il mio discorso è molto simile a quello che faceva Giacomo perché giustamente lui ha detto non avendo vissuto quell'epoca non mi dà il feeling di avere non lo so Super Mario Bros in cartuccia perché io giocavo a Legend of the Dragon su PS1 nessuno dice che uno è meglio o peggio dell'altro giustamente lui essendo più giovane avendo vissuto un periodo diverso prova quel tipo di feeling che magari o di sensazioni di ricordi che proviamo noi magari verso il Sega Saturn il Mega Drive l'Atari non lo sono quindi è una questione molto particolare io sono stato collezionista appunto mi sono poi rotto le palle di collezionare una serie di robe perché io parlo della mia epoca quindi Mega Drive Super Nintendo Sega Saturn eccetera eccetera puoi comprendere tutto anche arcade puoi comprendere proprio il 28 ma ti dico in generale io poi mi sono rotto le palle perché perché non per i prezzi erano alcuni erano già folli all'epoca quindi non è quello il discorso nonostante io non potessi permettermi li facevo i miei sacrifici ogni tanto mi compravo la cosa che potevo comprarmi idem come faccio adesso più che altro per il fatto che a me piace giocare ora io ho sempre detto anche un'altra cosa che siamo nel 2021 ora il CRT i tubi catodici sono un po' vecchiotti insomma per come sono fatto io a me interessa giocare oltretutto se vedo un gioco su un 55 4k non perché 55 4k sti cazzi lo facevo già sui VGA normalissimi però lo vedo senza i disturbi senza tra virgolette l'effetto marcio da tubo catodico io sono contento mi sta bene e me lo gioco scaricato perché ripeto a me interessa giocare e questo è un mio gusto quindi non è detto che sia giusto ti dico anche io sono così soltanto che ultimamente perché prima ero solo anche io tv moderna e dopo però ultimamente ho preso il cabinato nel tubo catodico cioè no 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 assolutamente però secondo me ci sono annate che vanno giocate sul catodico perché ti regalano l'esperienza ricordo che tu hai avuto da piccolo e ci sono annate che vanno giocate come dici tu ovviamente guarda io ti dico il vanno giocate dipende se è una questione personale personale ovviamente personale esatto perché se è una questione personale io penso che il tubo catodico possiamo arrivare tranquillamente fino almeno alla playstation 2 tecnicamente anche alla playstation 3 perché la playstation 3 aveva però dopo si è svezzata la playstation 3 sono stati quattro giochi però se stiamo a guardare quello che è l'idea allora fino a quell'epoca quindi parliamo almeno fino a ps2 la tecnologia era quella del tubo catodico quindi noi avevamo quello e ovviamente le differenze le conosciamo prendiamo una normalissima playstation 1 per dire play 1 perché è la più recente che ho rimontato su un tubo catodico ultimamente ok se tu usi il cavo scart classico si vede una mezza merda cioè diciamo una merda completa se tu metti il cavo rgb sembra di vederlo in 4k si è vero così ma il gusto è quello si si però ti dico attenzione sono questioni estremamente personali ripeto io per fare tra virgolette io la chiamo per fare scena quando ho fatto dei micro eventi dove ho il negozio la gente si fermava a giocare mettevo ovviamente ho messo la playstation piccola parentesi ricordiamo bt computer piccolo a boirino via maretti 3 barra c mi raccomando esatto al negozio perché non ho ancora fatto l'assicurazione datemi tempo poi ci dividiamo i soldi esatto ho messo la playstation 1 perché potevo mettere anche il super nintendo potevo mettere anche il nes però per l'età ovviamente di quello che potrebbe essere l'utente medio il pubblico medio il collezionista medio ormai gli metti play 1 ah mi ricordo quando tornavo a casa c'era dragon ball e mi spaccavo la play 1 per dire o al super nintendo oh ne hanno fatti oh ne hanno fatti 3 4 gt il 22 ancora 2 che non mi ricordo il nome oh c'è un sono di dragon ball no 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 ne hanno fatti ne hanno fatti 3 o 4 tra con gt orribile lento no no c'è il primo c'è il il dragon ball z 22 che con il trucco diventava 26 27 quello bellino final bout final bout oh madonna quello era e intanto il final bout però anche il final bout da me ad esempio ho notato io sono abito in provincia di Torino quindi sono in Piemonte qui il final bout devasti cioè per quanto magari potesse non piacere globalmente dalle mie parti e ti parlo di Piemonte in generale Piemonte è grande trovare qualcuno che mi dicesse final bout che schifo di gioco no fantastico l'ho avuto da me da me ha spaccato di più Tobal da me sì beh è un gioco ancora sempre di Echelatoriamo ovviamente però ti dico per quanto riguarda il discorso della rom piuttosto del collezionista sono due cose talmente diverse tra l'altro il secondo me la come si chiama la rom o comunque l'emulazione è un viatico per scoprire cose giustamente Giacomo che è super giovane non aveva magari giocato a Super Mario World perché magari era piccolo magari non era nato mi pare sia 91 92 non mi ricordo mai la mia 94 io no dico Mario World credo sia 91 sì 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 91 92 ora giustamente tu non eri nato come facevi a giocarlo diciamo che il il la tempistica più o meno che uno percorre per cominciare a giocare a ricordarsi qualcosa è tipo intorno ai 10 anni quindi io ho cominciato a 4 anni avevo già il mame ma lì perché è stato fortunato perché ero andato al bar alla gioca e c'era metà slag io volevo giocare a metà slag il mio padre è andato da un amico hacker ma è andato il cd col mame e allora poi ho conosciuto anche tutta la roba vecchia no 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 però diciamo che nella nella media parliamo della media vi interrompo un attimo perché dj prestation dice comunque allora voglio vedere sì volevo leggere io però aspettate leggi tu leggi tu allora vai 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 perché oddio vai io diceva diceva anche perché stiamo parlando di giochi che anche se piratati non arrecchiano nessun danno economico ai sviluppatori voglio vedertici ad usare un qualsiasi like sul 55 e pollici 4k comunque il CRT nel retro gaming non ha un aspetto puramente nostalgico il CRT è il pixel perfect l'assenza di input lag la compagnia attenziale attenziale allora qua qua rispondo io allora no spetta mi fai solo finire il discorso assolutamente scusami sì 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 assolutamente allora dicevo più o meno intorno a una decina d'anni indicativamente no più o meno quello che potrebbe essere quello che insomma vedo quello che è nella media ripeto poi i singoli ognuno fa storia se diciamo che nella media più o meno arrivi lì quindi più o meno tu sei nato nel 94 arriviamo al 2004 quindi più o meno come tempistica siamo lì poi ovviamente è un esempio fatto sulla massa però anche il collezionista diciamo degli ultimi anni chi ha più o meno la tua età che cosa colleziona play 1 e play 2 ma è normale che sia così voglio dire non è che stiamo dicendo una castroneria per quanto riguarda la rom in generale secondo me è un viatico per far conoscere giochi soprattutto licenze morte stramorte come diceva PoliStation e sempre a PoliStation dico una cosa è vero quello che tu dici voglio vedere giocare un gioco con la light gun sul 55 assolutamente ma ci mancherebbe altro sono giochi nati per essere giocati in una certa maniera e va benissimo così io non sto dicendo che schifo merda al CRT dico che dipende sempre qual è l'uso che tu ne vuoi fare personalmente io preferisco quello se voglio giocarmi anche se non mi darà lo stesso feeling le sensazioni saranno diverse tutto quello che vuoi a me va anche bene giocarlo emulato col mouse e io gioco Area 51 ho fatto una puntata con Dr. Games su Area 51 e giochiamo con il mouse è una questione personale poi in negozio ho il CRT con tra l'altro Time Crisis il Titan la versione italiana sì italiana è tra l'altro un italiano sì è quella quella doppiata proprio madonna doppiata da gente che passava di lì per caso ti dico è ovvio che sono cose fatte per quello di contro ti dico anche che nelle sale giochi ci sono degli sparatutto con pistola sugli LCD o comunque transformers ce ne sono addirittura che sparano l'acqua contro lo schermo cioè è uno degli ultimi è uno degli ultimi tra la transformers è uno degli ultimi è rimulato su Tecnopart che volevo parlarne nella prossima puntata però soltanto soltanto questo che non ho detto ah CRT merda assolutamente ci sono tutta una serie di cose che andrebbero viste in una certa in una certa ottica personalmente io ho messo il CRT ripeto per fare l'effetto nostalgia è fatto per quello cioè non è che mi invento delle cose voglio fare il super il supereroe però di contro davanti ad esempio a questo CRT con point blank con ho messo il volante con crash ho messo Microsoft Flight Simulator e c'era coda da una parte e dall'altra perché giustamente il mondo è bello perché ha variato e quindi ci sono tutta una serie di cose quindi è sempre una questione secondo me è sempre una questione personale non condanna l'altra sia tu Maulo sia PoliStation avete toccato un discorso bellissimo che a me è sempre piaciuto però è stato un attimino andato perduto di nicchie e tutto quanto le famose light gun sì secondo voi perché non hanno avuto uno sviluppo maggiore sì che di giochi hai nominato point play hai nominato comunque giochi area 51 The House of the Dead The House of the Dead 1, 2, 3 Dreamcast Saturn Dreamcast esatto perché secondo voi hanno perso un po' di questo film perché comunque tra tutte le periferiche che abbiamo avuto adesso non è che dobbiamo fare i professori delle periferiche andare a cercare però la light gun era una cosa praticamente universale era worldwide e secondo voi perché non ha preso piede erano divertenti perché se ci pensi andavi lì con l'amico due pistole papapam posso rispondere io per primo? assolutamente ci mancherebbe o qualsiasi chi vuole io faccio le domande voi dovete rispondere più che altro perché nella fattispecie allora il mercato è cambiato beh questo sicuramente però il divertimento sembra una sembra sembra una banalità ma il mercato è cambiato è cambiato e lo ha fatto cambiare proprio playstation io ho fatto il noleggiatore con un amico quindi il noleggiatore vuol dire che io ero quello che costruiva e faceva assistenza ai cabinati originali non originali come li chiamavo io i marcioni tipo i magno pronto scheda quindi ho un minimo di conoscenza del prodotto nozione tecnica no vabbè a parte gli scherzi a parte questo il mercato è cambiato ed è cambiato grazie alla play la play ha fatto per la prima volta la playstation ha fatto vedere che potevi avere una grafica figherrima a casa senza andare in sala giochi beh effettivamente è vero perché mi ricordo che le giostre a Gorizia dove abito io mi ricordo che c'erano i sala giochi sulla ruota panoramica vicino c'era una sala giochi beh c'era dovuta puzzare però c'era Tekken e mi ricordo che già c'era Tekken su Playstation 1 quindi eri dì tu immagina nel 1995 barra 96 perché non è arrivato un anno dopo circa avere Tekken paro paro alla versione sala giochi tra virgolette e chi ci andava più in sala giochi uno dei grossi problemi delle sale giochi almeno in Italia poi questo è uno dei tanti problemi poi c'è arrivato anche lo stato in mezzo quindi ci sono state tante cose e che veramente si cominciava a giocare tra virgolette sempre meno in sala giochi e si giocava sempre di più a casa con la Playstation perché tu avevi una grafica della Madonna che per la prima volta tu potevi avere senza andare ripeto in sala giochi per anni e questo lo può dire chiunque lo deve dire chiunque perché attenzione chi ha la nostra età sa benissimo perché mentirebbe a dire il contrario io sono giovane che ricordo se tu volevi la grafica figa tra gli anni 80 e gli anni 90 tu dovevi andare in sala giochi avevi il Mega Drive il Super Nintendo la Mega 1500 scusa la Mega 1200 500 tutto quello che vuoi ma non avevi la resa della sala giochi perché non c'era la possibilità la tecnologia per fare per quanto le conversioni fossero fantastiche ricordiamo Street Fighter 2 Champion Edition su PC Engine Madonna un miracolo della videoludica adesso fa ridere tra virgolette è ovvio che noi che lo conosciamo lo vediamo ancora come un miracolo perché abbiamo vissuto quel periodo il discorso delle Light Gun è cambiato il mercato si è andati sempre di più verso una tipologia di gioco meno arcade storia perché tutti volevano la storia giustamente perché poi il tempo cambia le mode cambiano la gente cambia quindi il pubblico cambia e altrimenti non si spiegherebbe il successo non so di un Final Fantasy 7 di un Metal Gear eppure si parla più o di un Resident Evil si parla comunque di annate non di 50 anni fa quindi grazie anche ai gusti del mercato che cambiavano eccetera eccetera i time crisis i point blank sono stati sempre più relegati a una cosa di nicchia poi che fossero divertenti sono ancora divertenti adesso ti fai ancora veramente un sacco di risate ma quello più tutto una serie di cose hanno portato le light gun a non a morire perché poi ripeto adesso ci sono dei giochi con le light gun sugli lcd tutto quello che vuoi ma sono giochini del cacchio diciamo non è una roba figa alla point blank o time crisis o virtua cop per me virtua cop rimane uno dei più belli in assoluto e quindi che cosa hanno fatto le case di produzione devo investire investo in una cosa che mi da sempre meno soldi o investo in qualcosa che mi da dei soldi quindi anche quello giustamente cosa fai gli dai torto hanno investito di meno e quindi le cose sono andate un po' a morire di contro siamo sempre lì perché c'è sempre due facce della quasi della stessa medaglia adesso le light gun sono ricercatissime e per chi ha un lcd le credo le le sa sinded come si chiamano light gun sono il non plus ultra perché le puoi giocare su cosa cacchio ti pare senza mettere a me nicoli cose addirittura già sul raspberry tu gli puoi collegare il come si chiama la bar della wii e puoi giocare parlando hai fatto hai fatto un'osservazione perfetta si è proprio arrivato al punto è una mia opinione con anche qualche fatto ovviamente storico perché no 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 hai fatto però ragazzi devo leggere un attimo la chart se no un attimo tutti i vantaggi che chi vuole giocare basta non fanno differenza ma per speedrun e dei giocatori argos sono fondamentali intendeva il tubo cattolico vabbè non lo so io non faccio le speedrun quindi non lo so non rispondo time crisis su ps1 con la light che ha un'esperienza al limite dell'arcade no scusami 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 no parlava perché il crt c'ha l'input lag zero ma con la tecnologia che abbiamo adesso non c'è molta differenza tra il crt e tra lo schermo quindi una volta una volta si poteva parlare di input lag diciamo 5-6 anni fa arrivati adesso con un pc mediocre uno schermo mediocre insomma l'input lag ormai è rimasto un po' dipende cosa dipende cosa usi perché sai l'OSD quelle robe lì un po' le introducono però se usi una console originale con uno scaler che costa parecchio cioè non hai ma devi consultare tutto bene certo è uno sbatti ma devi spendersi un sacco di soldi quindi da quel punto esatto è rimasta un po' è rimasta un po' una chimera nel senso che comunque tu volendo c'è l'input lag in termine proprio di input lag come adesso siamo nel 2022 quasi insomma non è che ci sta proprio se invece voleva l'esperienza proprio CRT console gioco e farti la speedrun ok mi sta benissimo ma la speedrun adesso odierna te la puoi fare comunque tranquillamente non hai tutto questo gap che avevi prima tutto lì sulle emulatori vecchi non lo so però sui giochi moderni no non c'è ecco il problema ma anche sui giochi vecchi non c'è più questo gap è enorme comunque mi dispiace ma la resa da sala giochi in casa c'era ben prima di ps1 parlo dello sharp xg8000 che costava una barca di soldi beh oddio se tu volevi giocarti a street fighter 2 champion edition non te lo giocavi a casa no quello proprio no ma sai cos'è ma sai cos'è che ho notato adesso parlando fuori campo così rimane comunque io parlavo di 3d attenzione vorrei specificare che comunque parlavo di 3d sì anche il neogeno scherzava no bravissimo bravissimo no io invece volevo dire rimane sempre ho notato nei ricordi delle persone che hanno vissuto comunque la sala giochi le prime 200 lire 50 100 500 lire rimane comunque impresso tra virgolette il cabinato cioè quindi la forma del cabinato il monitor il CRT i colori la luminanza il contraste ti rimane in testa e quindi vuoi cercare quel ricordo però attenzione c'è anche regione maolo cioè un King of Fighters 97 prendiamo un gioco che conoscono più o meno tutti se lo mettiamo su pc con i giusti filtri che ovviamente maolo odia e lo mettiamo su un cabinato più o meno siamo uguali al 100% cioè non è che cambia più di tanto ormai non era quello che intendevo io attenzione io parlavo di un discorso di un discorso diverso non mi metto a fare il paragone con la ROM e il gioco originale perché è un discorso talmente talmente vasto no 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 su quello no io parlo solo assolutamente no 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 su quello no io parlavo semplicemente di sensazione di memoria ah la sensazione sì sensazione di memoria e livello affettivo attenzione Domu Station eh Domu Station scusate DJ Poli Station scusate mi è spiegata una parola purtroppo pace dell'anima al suo Domu Station no DJ Poli Station in realtà Street Fighter 2 Champion Edition è stato sviluppato su XG8000 non riesco a leggere bene XGS XG8000 sì ma era una conversione comunque non era bello come la versione sala giochi cioè tu volevi la grafica io non so cosa sia cos'è questo XG8000 cos'è una console cos'è sì 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 è una console però siamo sempre lì cioè prendiamo anche banalmente io ti parlo di qualcosa di ovviamente figo di grafica è vero che c'era anche Wonder Boy su Master System non era bello come la versione sala giochi cioè assolutamente no è ovvio che ma voglio dire tu guarda anche solo una qualunque conversione del Neo Geo tolto il Neo Geo AS che è un discorso a parte no il Neo Geo ci vuole veramente è un discorso diverso se tu prendi una conversione qualunque di un gioco Neo Geo portato sul Sega Saturn per quanto fosse fatto bene non era comunque l'Arcade Perfect si avvicinava ovviamente però la Play 1 ti portava al 3D esattamente paro paro come nella sala giochi a casa più tutta una serie di giochi che in sala giochi non avresti potuto vedere perché Final Fantasy 7 non lo potevi giocare in sala giochi e non ce la facevano le schede non lo so prendiamo Resident Evil c'è tutta una serie di giochi che non potevi sviluppare sull'Arcade poi dopo addirittura mi ricordo Tekken Tech Tournament che aveva la 2 cioè è uscito prima Arcade si ed aveva una grafica una grafica simile simile al Tekken 3 no? poi dopo tutto per Play 2 c'era un abisso tutti per prima volta si è reso conto che la versione casalinga era superiore alla versione arcade in realtà questo è vero ma non è vero perché il primo che ha fatto vedere questa cosa è il Dreamcast con Soul Calibur hai ragione sì sì è vero Soul Calibur tu lo giocavi sul Dreamcast io ho avuto anche la scheda ma a parte quello oh mio dio e poi giustamente la tecnologia è andata sempre più avanti sono diventate più potenti le schede quella sesta generazione proprio ha superato la versione arcade ormai ritornando ritornando indietro torniamo un sbalzo temporale indietro parliamo di periferiche quindi periferiche ovviamente senza entrare nel dettaglio abbiamo parlato delle light cam ma secondo voi io mi ricordo la Playstation 2 aveva i tappetini le toy il BAT aveva il mondo secondo voi perché Playstation 4 si è portata malapena avanti qualcosa 360 vabbè lasciamo stare ha portato anche lei avanti stiamo perdendo tutte queste cose che comunque sono state belle perché Dance Dance Revolution per se ti piace Dance Dance Revolution ok che tu non ti vuoi muovere neanche dalla sedia però non è quello non è il mio genere cioè adesso sì ma se ci pensi però comunque su Playstation 2 vuoi portare un tappetino lo metti lì in musica cioè te ne mettevi due multitap ne mettevi quattro mettevi un disco serata con amici e per la telecamera adesso tutti quanti per lì sudati sono cambiati i tempi bisogna accettare il fatto che sono cambiati i tempi ma secondo voi ma costava troppo ma non aveva più senso ma non aveva più senso svilupparlo cosa gli fai ecco un tappetino ma l'ho detto prima anche con le light gun tu fai un tappetino su una Playstation 4 che puoi farlo oh la Wii non lo faceva la Wii sta cosa cioè la Wii ha fatto la male nel Wii Mott la sua vittoria la Wii ha fatto la balance sì ma la balance era soltanto per i giocoli di sport cioè tu guarda i giochi di sport i giochi di sport tum tum facevi gesti ma tu stavi seduto sul divano con la Wii muovevi il polso guarda che è il trucco della valigia cioè voglio dire il fatto è che allora io da commerciante ti dico che è uno dei giochi più venduti di sempre a Natale è Just Dance Just Dance giusto per ricordare questa cosa qua Guitariro? aspetta Guitariro tu palle pure quello meno male finito ti dico Just Dance ogni anno ne esce uno è l'unico gioco che viene ancora sviluppato su Wii perché la gente lo compra e non vi dico una balla ragazzi li ho venduti ancora no lo so assolutamente perché perché ti metti sto controller magari in mano c'è la telecamera e giochi perché non ha senso investire in cosa difatti la Sony che ha un po' capito due o tre cose nonostante tutto una delle periferiche più marce più vendute più cercate sono i motion control che sono tra l'altro quelli della Playstation 4 sono quelli della Playstation 3 hanno lo stesso attacco sono i move i move il cono gelato ora tu cosa fai investi in un tappetino che devi attaccare il cavo bla 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 oppure hai telecamera e un cono gelato ora se chi non ho mai comprati ma si è fatto schio perché sembrano dei dildo sono due visioni un po' estreme effettivamente ma saranno visioni estreme però tu hai chiesto perché secondo voi non producono più i tappetini perché non ha senso produrre i tappetini effettivamente dopo anche io preferisco tipo andare con le mani in sala giochi trovi quelli da ballare bella la plancia però però per la casa come fai cioè a parte che è ingombrante poi sì addirittura i vari dance dance cicci pasticci se tu guardi i giochi hanno hanno la telecamera è vero cioè soprattutto gli ultimi hanno la telecamera poi sicuramente hanno anche la possibilità di lungi da me dire che non sia divertente andare in sala giochi ma ci mancherebbe altro io che ho l'anima più arcade del mondo però ovviamente non conviene non conviene più fare questa cosa qua io comunque sto rubando le risposte a Giacomo scusate non ti sto facendo parlare ti chiedo scusa concludiamo l'ultima cosa con Polistation diceva 68000 era un computer giapponese infatti ho visto lo Sharp X 68000 non lo conoscevo anzi l'hardware del CPS1 aveva anche la stessa CPU del 68000 sì ma siamo sempre lì siamo sempre molto ah io qui non rispondo perché non non ho le competenze cioè allora ci sta allora rispondo io rispondo io ci sta ci sta tutto quello che ha detto va tutto bene chiaro però su un discorso talmente profondo che non si può adesso incastrare con l'X 68000 l'X 68000 praticamente ha fatto la storia no perché è stato implementato in quasi tutti i primi home computer e in quant'altro però ok intendi come CPU no sì andiamo avanti l'X 68000 sì ho capito allora come CPU lo conosco non lo conoscevo come computer però beh è stato un grandissimo vabbè comunque però ci sono implementate in certissime cose no parlavo meglio delle per i fake la penso esattamente come Paolo cioè secondo me il motivo è quello erano belle una volta secondo me adesso guardano molto la resa economica quindi non è che fanno qualcosa che fa perdere il soldo invece una volta sperimentavano di più avevano più margini potevano fare anche le cagate magari poi partivano invece adesso devono cercare di capire subito che cosa cioè ha diritto al soldo adesso sanno che ormai non conviene più secondo me sì ma poi comunque ripeto non non secondo me non ha proprio più più senso perché all'epoca era un limite tecnologico tu non gli potevi mettere una telecamera alla play 1 gli mettevi cavo esatto e via tappeto poi adesso la gente la gente è tutto più frenetico tutto comodo quindi avere una telecamera lì comoda che non succede neanche avere un tappeto in mezzo comprarlo opposta cioè capito è tutto più non è più pratico è cambiato la mentalità di tutto una volta inizia la dire un'altra bella domanda che sorge che sorge spontanea no secondo voi così a stima ovviamente a naso si evolverà tutto su pc o si continuerà comunque avere il pc gamer e il console gamer oh 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 questa è bella facciamo rispondere a Giacomo così ma io per me ti dico dall'epoca ps4 più o meno che proprio non mi interessa proprio perché so io la mia collezione arriva fino alla settima io non sono andato molto per i 3 e mi porto senza l'ante wii secondo me cioè non si può più parlare di console cioè secondo me sono soltanto dei computer castrati le console cioè non c'è più quella di cioè io non so per me console fino già play 3 fino alla play 2 lì sono console sulle loro macchine limitate possiamo dire limitate però sono qualcosa di diverso da un computer hanno delle sono proprio proprio geneticamente sono qualcosa di completamente diverso invece dopo con l'architettura assieme al pc dopo per me non c'è differenza anzi io preferisco un pc e una play 4 cioè per dire se mi devi dirmi un gioco invece tipo se arriviamo fino alla play 2 un gioco era per pc e play 2 io lo gioco più volentieri su play 2 ma dopo cambia la faccenda dopo secondo me non si può più parlare di console continuano a chiamarle console ma in realtà è un modo furbo intelligente di far più soldi vendendo dei computer un pochino castrati con delle limitazioni a tutto prezzo più caro è più un hub diciamo perché la console è qualcosa di più semplice da utilizzare un computer ed è anche meno costosa e secondo me la faccenda è questa quindi per me console poi a me c'è da dire un fattore nostalgico per me la console si comprava nei negozi di giocattoli non si comprava non si comprava nei negozi di informatica per me però era un pro e un contro questa cosa qua dici? ti parlo anche da commerciante non solo da appassionato ora attenzione il discorso che è stato un grosso dramma per almeno quello che era la concezione del videogioco in Italia in Italia come dice Fabri Fibri anche gli adattamenti in italiano i doppiaggi italiani dei videogiochi soprattutto della Play 1 ragazzi io rispetto tutte le opinioni ci mancherebbe altro ma che mi si venga a dire che il doppiaggio di Metal Gear 1 era figo no ma anche quello di Legend of Dragoon doppio cosmo aspetta se voi andiamo su Playstation 3 con Jericho vabbè Jericho fa il giro diventa bello perché è brutto cioè fa proprio il giro e diventa epico per quello io uccido te prendo anima e ammazzare il tuo amore quello è un altro discorso ancora però lo fanno qua a Torino nelle zone un po' più malfamate ma quello è un altro discorso comunque no a parte di scherzi il rapporto anche appunto che il videogioco in Italia era visto come un giocattolo per bambini la Playstation ha dato un taglio a questa cosa ha fatto capire che il videogioco non era solo una robina per bambini era qualcosa di più no quello è vero questo è vero voglio dire questa è storia però sì però la Play comunque esteticamente per come è fatta sembra comunque un giocattolo dopo i giochi hanno dei contenuti maturi invece dopo diciamo sì la Play la Play 3 poi è cambiato un po' la Play 4 più che altro posso dire sì allora già la Playstation 3 aveva portato una cosa aveva fatto scusa un passo in avanti che è stato un'arma a doppio taglio ovvero il Blu-ray nell'ambito videoludico che detto tra di noi non serviva una mazza oltretutto la Play ha perso un sacco di soldi un sacco di tempo e la Playstation 3 hai fatto bene scusa ti interrompo ha fatto la cagata di usare il RISC cioè lì ha fatto la cazzata più grande del mondo perché da programmare era sì ma poi tu non avevi anche quando chi programmava col codice sorgente non aveva accesso a tutti i core c'erano grosse limitazioni tra l'altro aveva un processore fighissimo e una scheda video che faceva cagare e nonostante tutto ha fatto dei miracoli perché pensiamo a Uncharted bravissimo la roba che è ancora ancora impensabile ma che tuttora tutti quelli che prendono la Playstation 3 e fanno tuttora non hanno il pieno conto cioè non e il Blu-ray a livello videoludico era troppo lento troppo costoso venivano cioè ci sono stati dei casi clamorosi ad esempio i due più clamorosi erano Red Dead Redemption 2 che su Playstation 3 era terrificante e Bayonetta mamma mia Bayonetta e Bayonetta poi è uscito su Wii U e era fantastico hanno dovuto fare degli aggiornamenti incredibili per renderla simile almeno alla versione 360 la 360 era strutturalmente migliore è migliore sì nel senso era strutturalmente migliore parlo al passato parlando delle due console e tra l'altro chi è che ci ha insegnato che una console comunque può diventare un centro multimediale chi se lo ricorda se lo ricorda l'Xbox bravissimo bravissimo c'è il Dreamcast Nii nel senso quasi sarà quasi era anche perché l'Xbox fondamentalmente ma come centro multimediale audio e video come audio aspetta fammi parlare un attimo ricordiamo che l'Xbox è il Dreamcast 2 ma non glielo dite alla Sega perché sennò è vero è vero è vero no un centro multimediale audio e video o che comunque potevi cioè il live l'Xbox live perché la Microsoft è sempre stata anni luce avanti a chiunque sulle console per il discorso del live del giocare online cioè ragazzi giocate online alla PS3 poi giochiamo sulla 360 beh la prima console la prima console fruibile che aveva il live che è partito con live era la prima Xbox che mi ricordo si giocava Street Fighter 3D Strike Dreamcast no no Dreamcast modem magari online come lo conosciamo adesso l'Xbox ragazzi ha fatto poi facevi la modifica all'Xbox assolutamente no per me Xbox è una console che ho riscoperto da 2-3 anni il primo e per me forse è intanto la mia preferita proprio e se hai l'opportunità visto che probabilmente si la modifica la farai se non la fai ti vengono a prendere la casa già fatta da anni non sei risparmiato una mia visita a casa tua e se tu prendi gli stessi giochi usciti per una piattaforma e per l'altra sull'Xbox erano altri giochi no no lo so lo so attenzione non ti parlo magari di cose clamorose tu prendi banalmente che tra l'altro è un gioco secondo me sottovalutatissimo ed è doppiato dai doppiatori originali ti prendi il gioco di Futurama sì bellissimo rimane fantastico tu lo giochi su Playstation 2 è divertente perché il gioco è divertente poi lo giochi su Xbox e dici ma perché ho giocato alla beta sulla Playstation 2 è vero è vero è vero è vero l'Xbox che poi cos'era un 486 modificato non mi ricordo la struttura mi pare fosse qualcosa un centrino sì un centrino qualcosa del genere che poi la prima Xbox era un centrino che adesso sono uscite un po' di modifiche se hai il macchinario giusto non è che lo fai in garage puoi mettere la doppia RAM puoi aumentare di RAM fai il test dei banchi tutto quanto e su certi giochi tipo Black e quant'altro vedi che vedi una bella differenza considerando l'età della console ti accorgi che dici che poi tra l'altro gira piccola parentesi gira Ninja coinops sopra io ce l'ho c'è l'hard disk da cos'è da un tera c'è quanto tanta giga di Ninja coinops sì sì ma puoi mettere puoi mettere la data torre adesso SATA puoi mettere l'hard disk da 400 gig sull'Xbox ho lavorato un bel po' mi sembra che c'è anche un paio di foto su Instagram di lavori che ho fatto c'è chi mette anche le SSD ho visto sì 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 possono mettere comunque l'Xbox rimane tutto il primo modello ovviamente il fette il cicciottello rimane una console che se è fatta a modo spendi un po' perché ormai si sa collezionismo ne parleremo spendi un po' però è una bella macchina multimediale e tra l'altro se eri uno un po' schillato sicuramente la nostra voce fuori campo lo sa e l'avrà fatto tu dalla prima Xbox potevi estrapolare un 720 se volevi sì sì assolutamente addirittura addirittura mettevi puoi farlo tuttora con i classici potevi fare nel senso lo puoi fare ancora adesso ovviamente con i classici ma poi potevi spingerti anche un po' oltre cioè puoi farlo volendo puoi farlo diciamo dallo zoccolo bravissimo bravissimo fai uscire i tre cavi fai uscire i 720 che Black Black è uno dei primi giochi anche Ninja Guy dentro l'altro vanno in 720 vanno tranquillamente ma anche l'emulatore l'emulatore Nintendo 64 su primo Xbox va in 720 meglio dell'originale meglio dell'originale la serie da dio la serie da dio l'Xbox ci sarebbe un discorso a parte perché effettivamente la prima è stata praticamente aperta come un pollo ed è una console io ho sempre detto quella è la 360 poi lasciamo stare la 360 con ci mettiamo su un Corona V2 e quant'altro c'è un po' di gente in chat attenzione Antonio Grasso c'è da dire che con la tecnologia del VR il VR sta spopolando neanche più la telecamera oddio il VR su console non lo so neanche io condivido il VR su PC rimane una cosa bella è un altro pianeta il VR su PC è un altro pianeta però costa cioè non siamo ancora a livelli vado io a comprarmi forami c'è un sacco di gente che saluta anche Paolo attenzione PC e console ormai hanno un'architettura fin troppo simile la differenza sta sul tipo di utenza da quale punta quello eh sì quello sì io sono abbastanza d'accordo abbastanza sì assolutamente ma anch'io il PC gamer è un giocatore hardcore frenetico e competitivo il console gamer vuole soltanto sedersi il discorso dell'arcore gamer queste cose qua sono quelle etichette che io ho sempre odiato io penso che un giocatore sia un giocatore e gioca basta poi se vuoi fare i tornei mondiali ti cazzi lo fai ci mancherebbe altro ma rimane sempre rimane sempre qua poi andiamo comunque è una cosa personale c'è questa cosa che dobbiamo essere etichettati sono un hardcore gamer poi guardo insieme ah io gioco solo a Demon's Souls ma che cazzo vuol dire cioè funziona funziona un po' così cioè secondo secondo un'idea che ho io poi magari anche sbaglio non importa la piattaforma dove tu giochi importa dove il gioco è sviluppato per quella piattaforma sei ottimizzato per console se tu sei tra virgolette un hardcore gamer e quel gioco è sviluppato per quella console e la console ti dà la possibilità di essere hardcore gamer allora sì ma cosa vuol dire essere hardcore gamer perché voglio dire ci sono maolo maolo scusami ci sono quelle persone che magari ti piace non so finire un livello senza mai morire senza mai prendere una moneta ma cosa vuol dire sì ma se tu giochi a un gioco a un genere in tutta la tua vita non mi puoi dire ah sono un hardcore gamer perché io gioco ho fatto delle cose sì poi veramente non hai giocato a metà della storia dei videogiochi assoluta assolutamente no assolutamente hai ragione nel senso no che ci sono determinate persone che purtroppo si mettono lì e dicono io sono hardcore perché questo determinato gioco lo amo alla profondità quindi non salto mai non prendo la moneta non prendo la spada lo finisco in questa maniera purtroppo l'hardcore gamer diventa questo nucleo di fare un determinato gioco lo so ma neanche io non lo condivido però purtroppo ormai c'è io secondo me prendo l'hardcore gamer nel senso che se il gioco è sviluppato bene per entrambe le piattaforme e tu riesci comunque a giocare in determinati punti poi va bene cioè gioco su PC gioco su console uguale ma quello è un altro discorso poi i gusti sono gusti però c'è questa storia di etichettarsi come ah perché io faccio questo o faccio l'altro sai quanta gente ho trovato perché gioco a Destiny e sti cazzi chi se ne frega comunque Manuel Ruiz lo conosci ti saluta ciao super e beh mi dico ciao Manuel e anche a Manuela poi ma secondo ma secondo voi se Sony continuava a lanciare console super microfono che fine faceva cosa vuol dire mi sono perso sin star sin star microfono un Sony sin star se Sony continuava a lanciare console super microfono che fine faceva cosa vuol dire non ho capito vabbè penso sin star magari è scritto male col T9 c'è partito super no col vecchio T9 non esiste più il T9 comunque ho sempre visto la prima Xbox come una console adottava gen proiettata nei primi anni 2000 architettura Intel hard disk integrata con utilità online beh c'è gente che la chiamava Dreamcast 2 se tutte cose che oggi si l'Xbox era un Pentium 3 con una GeForce 3 opportunamente modificata e 64 MB di RAM no era un centrino proprio vabbè ci sono diverse credo ci siano varie rev quindi diamo guarda c'ho una piastra c'ho due piastre madri qua dietro una una giapponese perché ogni tanto mi capitano da fare sono lì dietro quindi c'è l'upgrade della RAM serve per eseguire giochi della Sega Kihiro ovvero la board arcade Sega abbattrà su Xbox la Kihiro ah la Kihiro la Kihiro SSD su Xbox comunque non ha senso c'è sempre il limite di interfaccia IDE ma di fatti mi stavo chiedendo questa cosa dell'SSD ho detto guarda che c'è il rischio che sì montarlo lo puoi montare se vuoi però credo che lo friggi dopo forse ma non è ma non è il problema di montare SSD oppure no proprio la velocità anche di comunicazione no il bus il bus è una roba è come per esempio prendiamo adesso facciamo l'ultimo esempio perché lo sto facendo quindi prendiamo una PlayStation 3 adesso è uscito il 488 Cobra e ti dà la possibilità con una patch di leggere praticamente il formato NTFS ma tutti sanno che comunque la porta USB della PlayStation 3 è comunque 1.1 anche se io metto la mia che è 3.0 hai capito la Play 3 ce l'ha ancora 1.1 ma io pensavo avesse almeno la 2.0 no ma scusami ma scusami io sono i miei Play 3 uso un hard disk esterno quelli che vanno alimentati USB come fa a alimentarlo se non è 2.0 se 2.5 pollici se 2.5 pollici non è un problema se 3.5 non puoi ah no è quello più piccolo sì non c'è ce la fa perché all'epoca comunque io pensavo avesse almeno la 2 perché la 1 aveva l'1.1 mentre almeno la 3 aveva il 2.0 no 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 è sempre così adesso hanno fatto la patch tu puoi mettere il disco esterno la virgolette USB 3.0 ma il bus è quello il trasferimento dati è quello lì tipo 600 mega sto tipo 2 minuti sto lì che guardo mi prende male anche perché ufficialmente non potevano fare una patch che leggeva l'NTFS perché è un formato proprietario della concorrenza è di Microsoft infatti l'ha fatto col custom firmware ci ricorda che l'Xbox faceva anche il 1080i tipo Matrix faceva anche interlacciato sì lo potevi eventualmente lo potevi fare diciamo che potevi estrarlo almeno io l'ho portato l'ho portato me l'hanno insegnato l'avevo fatto a 720 e via poi probabilmente andava in 1080i ma a parte che era una console avanti 20 anni sì era avanti quella lì una volta che la bucavi avevi il mondo e tra l'altro se ci fate caso l'80-90% delle features nuove della 360 arrivavano dalla modifica della prima sì sì è vero sì 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 così hanno detto magari non ce la modificano sì un paio di palle che abbiamo bucato però tra le console vecchie senza modifiche tutto così nativo per me quella con la grafica migliore è il Dreamcast sul Dreamcast c'è un amore Dreamcast e PlayStation 2 è un discorso però Dreamcast aveva delle limitazioni aveva delle cose in più che non aveva la PlayStation 2 viceversa delle robe che la PlayStation 2 non poteva fare che Dreamcast faceva ma gli mancava tutta una serie di robe e poi vabbè è stata sviluppata anche troppo poco per dare una risposta esattamente proprio precisa diciamo che per quello che si è visto è poi venuto fuori che c'erano delle cose che ma è un po' come il discorso del Mega Drive col Super Nintendo sul Super Nintendo tu Sonic non avresti mai potuto farlo non ce la faceva il Super Nintendo per quanto fossi più potente sotto alcune cose guarda Mortal Kombat 2 lo giochi su Mega Drive a metà delle animazioni seccate su Super Nintendo erano complete il problema è che tu Sonic sul Mega Drive lo facevi girare per la struttura che ha voluto Sega con il Mega Drive cioè la velocità spacchiamo tutto rinunciando a qualcosa su Super Nintendo tu Sonic non lo potevi fare o almeno ufficialmente no poi magari l'ha ambucato in questi anni si l'ha fatto si l'ha fatto fare delle robe incredibili ma nativamente tu non lo potevi fare sacrificando cose come tutte le console sacrifichi qualcosa per darle da un'altra parte quindi è un equilibrio che va mantenuto ma lo vediamo anche con PlayStation 5 e Series X cioè sono molto simili sono diverse una è ottimizzata l'altra cioè la PlayStation 5 secondo me continuano ad avere dei grossi problemi no ma dall'Xbox io per esempio ogni gioco appunto se uscivo Play 2 Xbox andavo su Xbox se uscivo su Play 3 Xbox 360 andavo su Xbox 360 e quando non c'era che lo giocavo per forza sulla 3 ma io ho sempre fatto così cioè sempre vi faccio vedere una cosa che non ho ancora fatto e faccio in quasi tutte le live vediamo se qualcuno riesce a capire che cos'è questo tatuaggio che ho su Gear of War Gear of War quindi non è che sto proprio parlando di una cosa che non conosco ah io guardo la vedete la vedete là c'è la 360 guardate là c'ho la skin la vedete là dietro di Gear of War quella che si illumina sulla 360 che era una figata atomica allora però sì 360 per me è stata la console di riferimento nella generazione precedente in questa qua mi sono buttato sulla PlayStation 4 l'ho trovata migliore per i giochi che sono stati sono stati proposti perché dall'altra parte c'era sempre Halo Gears che secondo me dopo il terzo doveva morire Halo uguale doveva finire dopo il terzo e Forza Motorsport io non so Forza Motorsport per me pisce in testa a Gran Turismo proprio di cattiveria e io non sono un giocatore amante dei giochi di guida sono scarso come non so che cosa di fatti me la cavo solo a sigarelli e basta perché è un arcade però basta con Halo Gears Halo Gears sì anch'io anche io sono appeso cioè fate qualcos'altro non per qualcosa ma infatti cioè dall'altra parte veniva proposto qualcosa cioè di un po' di un po' diverso poi i giochi erano sviluppati quelli per tutte e due le console erano sviluppati quasi sempre meglio su 360 c'erano dei casi in cui ad esempio Final Fantasy aveva i filmati non compressi nella nella PlayStation 3 perché aveva il Blu-ray è una cosa che magari per il quale è stato utile avere il Blu-ray per il resto erano costosi e non servivano a una mazza in quella in quella generazione adesso sono diventati necessari per forza perché perfino FIFA è 70 giga quindi da qualche parte facciamo facciamo una bella domanda tornando tornando agli albori vediamo un po' cosa mi rispondete mi stiano odiando per metà delle cose che ho detto ma lo live resta in piedi perché io purtroppo c'ho un po' di problemi perché dopo un po' di tempo sì sì salterà un po' di frame però io la vedo io la vedo tanto sono ancora due domande quindi vai vai facciamo facciamo questa bella domanda che passiamo agli albori una cosa che possiamo spiegare in 3, 2, 1 spiegate in 3, 2, 1 eh no perché è una domanda ci sono due domande abbastanza lunghe ahia sono belle sono belle carine e mezzanotte ci stiamo per trasformare in gremlins quindi ok se ci bagniamo poi andiamo avanti poi c'è il cinghiare che si alza all'una sai quindi abbiamo già avuto a che fare il controller più amato e più odiato della vostra infanzia io devo dire due cose devo dire però devo dire le doppie risposte perché una proprio una a livello nostalgico una a livello di performance proprio di sì 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 esatto esatto allora il più odiato nella mia infanzia no aspetta sì parliamo dal più odiato nella mia infanzia quello del 1964 e anche questa volta il 1964 ormai è mi stavo guardando qua perché odiamo l'intento mi stavo guardando qua il più odiato nella mia infanzia invece il più amato nella mia infanzia era quello della play 2 play 1 play 2 quello con le leve quando sono andate le leve quindi il dual shock ok però dopo con gli anni per me i controller allora io ti dico per quanto riguarda i 3D il più amato gli odiati non ne ho mi piace questa difficoltà no gli odiati ci sono tanti controlli quando sono cresciuto quindi fuori dall'infanzia gli odiati non ne ho cioè mi adatto capisco cerco di capire anche in 64 non l'odio più c'è la sua c'è il suo senso in un certo modo certo ti devi abituare però non è che l'odio una volta l'odiavo quindi non ne ho odiati ne ho due preferiti in base a che sia il 3D o il 2D per quanto riguarda il 2D per me è imbattibile sono indeciso fra il D-pad del Saturn e quello dello Smash sono entrambi molto buoni non so però gli alterno perché forse quello del Saturn è un po' meglio perché hai fatto cerchi e riesci più a gestire il dito per me è migliore per il 2D invece per il 3D niente sono affezionatissimo a quello della 360 ma assolutamente per me rimanono dei migliori per me rimanono dei migliori quello della 360 per le leve come le ha messe ma anche il D-pad quello di Re per me è uno dei migliori per il 3D è il migliore sì sì secondo me anche a livello di 3D quello della 360 tra l'altro io ho avuto la fortuna di provare madonna l'Elite Serie 2 madonna ragazzi che pad quello della Play 1 e Play 2 adesso quando lo prendo ci gioco ma dico no ma quello della 360 ma anche della prima Xbox è meglio cioè non ci posso fare niente non ci posso fare niente però all'epoca la nostalgia era diversa e il buon Maulo ah ah tu ne hai avuti tanti boh allora diciamo che quelli che mi sono piaciuti di meno sono stati perché poi ho provato la differenza con la versione successiva è solo per quello se no a livello affettivo quello che mi è piaciuto di meno può sembrare strano è stato il primo la prima versione del pad del Mega Drive perché aveva le croci direzionali che erano una tortura erano veramente ok i tre tasti i tre tasti no 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 per i tre tasti per il D-pad sì ma la prima versione dici tu italiana quella venduta da giochi preziosi i tre tasti il cornetto il cornetto il cornetto il cornetto quando hanno fatto la versione del Mega Drive 2 che era sempre cornetto ma gli avevano alzato il D-pad vero vero cambiato il mondo sono diventato quasi un giocatore bravo allora secondo me uno dei più strambi odiati non lo so perché alla fine che odiato sì diciamo che uno forse dei meno amati in assoluto è quello del dell'Amiga CD32 quello non si può cambiare quello non è un controllo è una roba attenzione uno dice quello è un boomerang non ho capito quello è un boomerang glutei ma tu dici cosa potrebbe esserci mai di peggio c'è quello del Jaguar per esempio mamma mia il telefono delle robe a livello di emulazione c'è gente come Matteo Turchi che invece che lo stanno usando oh ognuno giustamente ha le proprie croci o nessuno toglie però cazzo oh però adesso parlando seriamente il ciao cioè veramente avevi una cosa cioè avevi un una cosa con la cornetta telefonica sì ma infatti a livello di emulazione io ho tirato giù che poi che poi tu mi hai dato mi hai dimmi dato una botta al cervello io mi immagino il Jaguar con quel controllo e Kasumi Ninja sì tra le altre cose tra le altre cose e a livello di emulazione emulare tutti i tasti del del pad sui joystick di adesso mi mancano i pulsanti è quasi come tra virgolette quello del Nintendo 64 che aveva i C button che nelle un saluto al buon Matteo rompono sempre i coglioni i C button rompono i coglioni mamma mia allora si possono fare perché per fortuna ci sono i nostri famosi amici China che noi amiamo che fanno hanno fatto il pad USB collegabile strutturato come quello del Nintendo 64 quindi voglio dire rimane solo più il problema dell'emulazione del Nintendo 64 poi mi era ah beh ricordiamo che in quelli semi non terrificanti però i meno riusciti il primo pad dell'Xbox io ce l'ho di là io non ce l'avevo io non ce l'avevo io l'ho usato io ce l'ho qua io non l'avevo comprato avevo solo quelli slim e ma che schifo poi sono andato al modena nerd l'ho visto ho detto oddio non l'ho mai visto vita mia è enorme lo provo si chiama Duke si chiama Duke l'ho preso in mano ho detto ma che merda è l'ho provato è impegnativo ho detto ok è troppo merda la devo comprare infatti lo compro esatto giustamente pensate voi che avevo preso la prima Xbox in un negozietto che adesso non esiste più a Gorizia con Dead or Live il 3 col Duke cioè quando l'ho preso in mano ho detto cos'è sta roba anche con la memory card la mettevi dentro cos'è sta roba si era una cosa enorme che bello è aveva sto doblone verde che ti fissava tu devi giocare con me ti ipnotizzava ma tu scherzi ma in Giappone uno dei motivi per il quale l'Xbox non ha preso erano le dimensioni del pad una cosa storica incredibile che poi facevano i sushi lunghi un metro a farsi giocare ma i giapponesi non hanno solo le mani piccole ma a parte questo si scherza ci mancherebbe poi partono i Godzilla dal Giappone ci vengono a trovare insieme ai SimCity esatto no diciamo che vabbè anch'io come diceva Giacomo per me quello della 360 in assoluto resta almeno per i 3D oddio ti posso dire che giocando ai 2D anche solo a livello di emulazione la croce direzionale dei pad della 360 o della One sono buoni sono buoni parlo di emulazione abbastanza spicciola e comunque oddio io ultimamente sto emulando tipo Tekken 7 Dead of Realive 6 e che rigioco col gesticcone arcade parentesi mi sono comprato il Fightin Edge quello del Pro Tour della Sony quello per i Super Mega Tour che fanno dei vari Street Fighter non avevi finito i soldi con la TI ma difatti l'ho comprato l'anno scorso e ti dico l'Arcade Stick è sempre l'Arcade Stick però effettivamente il D-pad della 360, della One continua a essere fantastico poi mi ricordo ad esempio pad, beh c'è sempre molta polemica a me è sempre piaciuto continuo a giocarci quando posso il pad del Dreamcast a me è sempre piaciuto a me piace ci sta, ci sta, ci sta anche a me piace e poi per carità i gusti sono gusti c'è tanta discussione io personalmente per il picchiaduro ci vado giù di Playstation perché la croce direzionale per il picchiaduro per me è fenomenale a me fa male il dito a me la prima versione il primo pad della Play 1 senza gli analogici no no no, Playstation 2 per il picchiaduro io ci vado a nozze invece per il resto uso il cablato 360 bianco che hai visto uso quello anche perché è più supportato ormai beh, ci siamo dimenticati comunque le levette il joystick inteso come joystick Atari barra Amiga barra qualunque cosa no no, non toccarmi la Amiga bello ma adesso esce la mini console Amiga 500 spero che prenda fuoco lo stabilimento eh, va bene prima o poi si doveva beh, comunque nonostante tutto il fatto che rifacciano una Amiga 500 mini che non è una console se fosse possibile ricordare io spero che crepino domani no, però voglio dire fa conoscere questo prodotto ai più giovani ad esempio magari Giacomo che non l'ha potuta giocare e i floppy magari c'è lui in guai c'è lui in guai scherzo ci mancherebbe Giacomo però voglio dire scopri magari qualcosa che non conosci ci dicono che la live ha dei problemi salta molti frame ma ho messo indifferita per non avere buffering ok eh, perché purtroppo devo usare il telefono che non ho problemi ma ho usato quella di casa dopo un'ora in mezzo vabbè, ma tanto abbiamo guarda siamo quasi a due ore di live ho due domande e poi io devo andarmi a guardare devo andarmi a guardare le browsers se riusciamo a chiudere un attimino passami il link dopo che così mi fai vedere anche a me hai detto tette? no, ho detto brothers poi ci puoi mettere in mezzo a quello che vuoi io ho capito tette leggo solo un attimo i commenti per fare l'olse il mio primo gioco figo era Prince of Persia oltre 100 livelli su un floppy sì, beh, beh con una grafica della madonna se so Antonio Grass lo conoscete? Antonio Grasso se dico sì cosa vinco e se dico no cosa vinco no se Sony continuava a lanciare console come la PS1 e la PS2 continuava e con la PS3 Microsoft che fine faceva puntini 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 beh, ha continuato a lanciare console, no? no, il punto il punto adesso faccio un piccolo senza dar contro nessuno il problema è che Microsoft è sempre stata furba perché Sony ha voluto sempre uscire prima Microsoft è uscita dopo quindi lei ha visto un po' come funzionavano le cose e poi è uscita perché comunque è uscita in tutte e tre gli sviluppi è uscita dopo a parte con l'Xbox Series 6 mi sembra è uscita prima e poi la PS5 è stata annunciata un po' dopo comunque infatti ho detto l'ultimo passo è stata Microsoft che è uscita prima però ah sì prima sì scusami fino prima comunque Microsoft ha imparato ha detto facciamo così poi è uscita e mi dispiace dirlo però guardate un po' adesso è un discorso lungo non vorrei dar contro uno all'altro io guardo solo l'hardware dal mio punto di vista anche questa volta Microsoft ha fatto veramente tanto di cappello la console perché comunque la Series X è veramente una oh PlayStation 5 è sempre avuto allora problemi di alimentatore problemi di coil problemi di Blu-ray problemi di compatibilità problemi di surriscaldamento adesso lasciamo stare andiamo avanti andiamo avanti l'ultima domanda si saluta va a letto se è cassato non ne vogliamo parlare salta molto ok e l'ultima cosa l'ultima cosa il joypad della 360 è minuscolo come si fa a giocare anche il Namco Pro che si smonta ah il Namco il Namco quello ok ci sta anche quello lì come controller il Nakon il Nakon boh è scritto male non li conosco tra l'altro il Nakon controller penso che sia una delle cose più sovrapprezzate nel mondo dei joystick io capisco che a lui piace ci mancherebbe gli consiglio se ha possibilità di comprarsi il pad l'Elite serie 2 poi facciamo il paragon allora dopo un'ora e 57 49 secondi di live vi ricordo le marchette seguite il buon Maulo seguite lui che ha un negozio è commerciante ragazzi prende videogiochi mi raccomando andate da lui non andate dai castroni chiedete le cose lui vi sa suggerire bene vi dice questo vale questo non vale e anche computer assolutamente computer console quant'altro ci sia Raspberry 3080 Ti cosa cosa andate dal buon Maulo e seguite anche il buon Demiurgo tutti i social che ha li vedete in descrizione mi raccomando ragazzi perché se ci aiutate fate tanti like noi potremmo anche fare una seconda puntata chi lo sa per dire per dire se ci volete bene insomma seguiteci che magari allora ultima domanda vai progetti futuri questa è tac questa è generica proprio progetti futuri cosa hai allora facciamo così Giacomo i tuoi progetti futuri riguardo al mondo videoludico le live riguardo al tuo mondo social quali sono beh te l'ho detto completare completare tutti i collegamenti per avere tutto da farci le live che mi manca solo NES e Master System è quello che mi interessa perché dagli 8 bit fino a la Play 3 c'è tutto quello che mi interessa aspettiamo che c'è Mauro che vedo che è degli spiriti in camera no stavo guardando una cosa perché mi è venuta in mente una roba ma va perché ti ho visto c'era un po' di spiriti era preoccupato che non ci fosse ma si si lo vedevo che ci girava ha detto cazzo c'è qualcuno che mi viene a prendere adesso vuole un gioco a quest'ora il negozio è chiuso cazzo andiamo avanti e poi sicuramente devo lavorare molto bene sul cabinato che ho preso devo metterci computer devo proprio ah tra l'altro tra l'altro piccola parentesi fai anche una panoramica al boom a noi soprattutto a Mauro così vede quanto questo guarda guarda e io devo guardarlo indifferita poi sulla live perché non lo vedo da qua si comunque adesso è spento però si vede insomma fai una bella panoramica del tutto perché io ti conosco ho visto il tuo percorso e sinceramente merita di essere visto comunque qui c'è una bella tv anche il tv catodico di quelle degne è proprio è un un elettron è un monitor VGA con le 31 kHz da 22 pollici con i professionali vabbè che bella roba vabbè cioè pensa tu pensa tu questo ragazzo qua che è nato a fare i video che l'ho seguito con modifiche psp e quant'altro cioè guarda tu quanto è quanto è cresciuto cioè si è preso il mondo praticamente vuol dire che capisce ci ho messo 4 anni dall'ultima cosa dal mio grande conquisto eh sì dico sì cabinati prima o poi lo farò prima o poi lo farò poi finalmente due ne ha cambiati eh no no due due ne ha cambiati due e poi quindi finire con le due console lì il cabinato devo farci un sacco di video devo spiegare metterci il computer devo giocarmelo bene e le live sì voglio parlare di voglio fare delle live su queste cose allora voglio tornare come facevo all'inizio voglio rifarmi tutti i video delle modifiche delle console spiegazioni complete di ogni console come facevo all'inizio del canale tipo perché tipo quello della play 2 per esempio se tu lo vai a vedere quel video lì che c'ha già tre anni è fatto bene c'è un sacco di visual però uno ho detto all'epoca ho parlato di certe cose in maniera non completa perché per esempio tutti mi dicono eh ok non hai fatto vedere però come si gioca tramite il cavo crossover da pc sulla play 2 quindi andrebbe fatto a vedere a parte che adesso ce l'ha fatta cosa me ne frega a me però cioè tra l'altro cioè potrei fare perché ho imparato di certe cose però potrei fare una visione a 360 gradi in tutte le versioni di una console come la qualità video migliore l'everdrive tutte queste cose qua che poi scusate se mi interrompo riguardo audio e video Giacomo è veramente veramente bravo cioè ha scelto pezzi non ha abbattato a spese si è fatto il cablaggio perfetto ha voluto sempre la qualità quindi anche se ha fatto video vecchi e magari ha esposto qualcosa di inesatto o dimenticato però vedi la qualità che ha e quindi considerando che così giovane è tutto la ludoteca che si è costruito in questi quattro anni è comunque ammirevole perché dici ma sti cazzo cioè Saturn se non mi sbaglio hai Saturn con l'Sd ti sei fatto Dreamcast con l'Sd si con Rea con il Fibi esatto con il Fibi si è fatto Gamecube PlayStation 1 Gamecube con Gamecube Loader anche lui da SD col cavo component originale che mi l'avevo pagato component parliamo di robe introvabili poi c'è lo schede c'è l'SC però voglio c'è veramente un mondo sto ragazzo qua che è giovanissimo e si è veramente fatto una cosa perché io ho cominciato a fare video con la Play 2 usare la Play 2 col cavo scato RGB con lo schede all'SC la massima qualità cioè è cresciuto fino ad avere un cabinato originale fatto a modo e fatto quant'altro cioè per dire che poi tra poco ci metterà il PC che poi c'è subentrata il buon palo marocco e gli consiglierà che più ci mettere dentro il cabinato così così gli facciamo una cosa a modo e finirà comunque queste sono le cose che voglio fare perché mi manca fare quel tipo di video lì e devo farli adesso ho tante console tante cose ci metterò un po' però editati bene voglio fare queste cose qua e il buon maulo cosa ti dice i tuoi progetti futuri per tu non hai ancora un canale perché ti si conosce a te tramite tra virgolette beh non solo hai fatto anche un disco ti ha avuto successo non ricordiamo le cose brutte del passato perché è stato bellissimo dai ti si conosce per Dr. Gale ti si conosce per il disco che hai fatto per il negozio che hai comunque sei un personaggio però 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 non hai un tuo canale non hai i tuoi progetti futuri sì diciamo che è un ni in realtà il discorso del canale nel senso che un canale c'è e vorrei portare di nuovo avanti questa cosa che si chiama il mangia film dove fondamentalmente faccio una recensione per quanto possibile dei magari dei cofanetti film cose di così quindi abbiamo un'esclusiva adesso sul nome e speriamo cioè io volevo già il mangia film abbiamo un'esclusiva costa una cifra incredibile mettere un marchio registrato nel mondo comunque no il nome del mangia film non l'ho inventato io ma l'amico Max che con me ha tirato fuori questo 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 canale adesso è parecchio tempo che non non faccio video vorrei andare ricominciare diciamo solo che mi manca il tempo per tutta una serie di motivazioni il lavoro per fortuna quindi col negozio ma assolutamente ma devo anche rivedere l'impostazione mi piace forse vado un po' troppo in fretta ma non potendo far vedere spezzoni di film per motivi di copyright che poi in realtà non è proprio così ma siccome appunto ha un certo tipo di di video mi piacerebbe far vedere soprattutto perché io parlo molto delle versioni 4k si so che sei un esperto di film quello sei beh esperto non lo so però per dirvi è uscita adesso deve uscire arancia meccanica io sono strafan di Kubrick devo uscire la versione 4k ho scoperto che esisteva una versione che veniva distribuita in inghilterra non in italia super limited comprato quella mi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e volevo recensirla facendo poi il paragone con la versione che esce poi da noi i video fondamentalmente sono quelli dovrei andare leggermente più secondo me sono troppo veloci dovrei rallentare un po' però mi scoccia fare un video di anche solo 5-6 minuti dopo che ti ho fatto vedere come hai fatto il cofanetto l'audio gli speciali il contenuto e basta cioè se lo vuoi comprare te lo compri se non te lo vuoi comprare non te lo compri quindi c'è questa cosa qua quindi cercare di riprendere in mano il mangia film magari se riesco fare sì sì farle live tutto il resto è un progetto che in teoria sto portando avanti a riguardo al mondo videoludico arrivo anche a quello è un progetto che sto portando avanti con un'amica adesso vedremo se riusciamo a diciamo a fare questa cosa qua purtroppo ci sono dei problemi tecnici e e poi per il discorso emulazione vorrei come posso dire migliorare quello che ho che ho sotto mano per fortuna dopo due anni sono riuscito a fare un un progetto che ho sotto